Ciao ragazzi, benvenuti in questo video sul canale Oggi ragazzi Live reaction Leganese del Madrid Ultima partita di campionato Quindi voglio fare la live reaction Leganese deve vincere Perché se vince si salva Se vince Se vince si salva, quindi Leganese deve vincere Non aver deciso in campo con La squadra venente del Barreto Perché ormai il campionato l'abbiamo vinto E niente Questo ragazzi La partita inizia già da 4 minuti, infatti ho fatto un po' di ritardo Ragazzi, scusate Però 0-0 ancora Abbassiamo perché Abbassiamo, abbassiamo, abbassiamo Palo Sono aspetta da vedere il palo valverde No, parate del portiere, che palo Abbassiamo tutto, abbassiamo Oh Mai menti, fallo Fallo, fallo, fallo Colpo di testa Tagli No No, sì Gole, gole Per stare a vedere fuori gioco Che segnato Sergio Ramos è a casa mia Sergio Ramos 1-0 Tutto regolare Penso Andi Sergio Ramos Andi Sergio Ramos Andi Sergio Ramos Che si deve salvare Va bene anche il pareggio, ripeto Quello che facciamo All'interno del campione È finito Stiamo attenti a questa azione Leganes Bravo Sergio Ramos Valla, rimani lì Vai Vai Benzema Attenzione Perché adesso Attacca il Leganes Palla buona In mezzo Gol del Leganes Eh ragazzi Stava spingendo Stava dominando Giusto così ragazzi Stavamo dormendo Noi in campo Stavamo Complimenti a Leganes Che comunque si deve salvare Stavano Il campione L'abbiamo già vinto Quindi Oggi possiamo pure perdere Però Meglio un pareggio Meglio Comunque 1-1 E niente Finisce il primo tempo ragazzi Ci vediamo noi Al secondo tempo Ci vediamo al secondo tempo ragazzi Ci vediamo Mi sa al secondo tempo ragazzi Mi giusto Attenzione a loro Mamma mia Ecco l'Asezio Asezio Marca Asezio No è Isco No è Marca Asezio 2-1 Real ragazzi Ma Asezio Che Io non ho le golle Contro Contro il coso Contro il biera Non posso Andrugli pure questo qua Il golle è valido Mamma mia La cosa assurda Le cani Se vuole segnare Siamo già al 60 Oltesimo minuto Che cosa ha preso Curto Se vuole fare il gioco Devo fare il gioco 3 Però No 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 jo Oh So Vabbè ragazzi 2-2 Però Veramente Alce A 12 Alla fine Penderci il 2-2 Che partita Comunque Cioè 4 gol in una partita che lega in essere a Madrid Non so mai Vabbè ma stiamo giocando male però se vedi Cioè se mo' già stavamo vincendo 51 Stico sta squadra Perché fa schifo sta squadra Siamo attenti mamma mia Questi qua ci fanno 3-2 Ci fanno A fine Finisca 3 volte l'arbitro Finisca 3 volte l'arbitro E' finito signori Finisce qua Finisce che fu fortuna Fortuna Leganes è successo Mi piace tantissimo per Leganes Viene 2-2 Si finisce Normale Finisce Niente di che Neanche tanto Tanto brutto è stato E niente Siamo tutti contenti qua Siamo perché La squadra La dobbiamo portare a casa Oggi tu potevi Fare quello che ti pare Perdere Pareggiare Vincere Hai pareggiato Va bene lo stesso Quindi ragazzi Se il video del processo Mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo Al prossimo video Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti